ciao ragazzi bentornati sul canale tutto tech oggi parliamo di ecoflex come promesso andiamo ad approfondire un po di più le caratteristiche di questo prodotto potremmo dire che è uno dei prodotti migliori della fascia eco beh sicuramente ha dei pro e dei contro però io ripeto a mio parere personale è davvero un prodotto fantastico e tra poco vi spiegheremo il perché ma nel frattempo ricordatevi di iscrivervi al canale lasciare un bel mi piace e perché no attivare anche la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qual volta noi caricheremo un nuovo video ma prima di tutto questo vi lanciamo la nostra sigla scorrendo i vari elenchi di amazon se avete inserito la scritta eco sicuramente lo avrete visto si tratta di un prodotto davvero compatto con la presa di corrente già inserita quindi questo vi dà la possibilità di poterlo mettere in qualsiasi angolo di casa vostra l'assenza del filo poi rispetto ai suoi fratelli maggiori gli dà la possibilità di non aver bisogno di un piano d'appoggio cosa che invece con gli altri eco serve assolutamente esteticamente molto minimale ma entriamo un po più nello specifico nella parte frontale troviamo due tasti quello di muto per silenziare il vostro eco e quello di azione per consentire di parlare direttamente col nostro dispositivo nella parte in alto poi troviamo due piccoli fori che sono i microfoni postandoci invece sul fianco del dispositivo troviamo l'uscita da 3,5 per poter connettere magari una cassa esterna e nella parte sottostante troviamo un usb una classica usb che dà la possibilità di ricaricare il vostro cellulare altro vantaggio dell'ecoflex se lo collegate alla presa di corrente avete sempre la possibilità di collegare sotto l'usb per ricaricare un dispositivo ma se invece avevate un eco normale la presa di corrente non potevate staccarla e avreste dovuto decidere se collegare l'eco oppure il cellulare sotto carica con questo dispositivo invece potete fare entrambe le cose ma tutte le caratteristiche dell'usb le vedremo poi un po più avanti nello specifico l'ecoflex di solito viene emesso in quelle stanze dove di solito un eco non viene emesso come per esempio il bagno o la cucina questo perché magari un po sono stanze che sono un po più prive di piani d'appoggio o comunque una facilità nel poter collocare questo dispositivo e l'ecoflex invece risolve il problema collegandolo direttamente alla presa di corrente chiariamo una volta per tutte perché mi sono arrivate parecchie volte delle domande ma a tutte le caratteristiche degli altri eco ma devo per caso scaricare qualcosa in più devo aggiungergli qualcosa no assolutamente tutto quello che voi fate con un comunissimo eco con ecoflex potete fare la stessa identica cosa alla nostra assistente vocale integrata a tutte le skill che voi avete caricato precedentemente sulla app possono creare routine impostare timer chiedere le previsioni di meteo ascoltare le notizie insomma tutto quanto in quella scatoletta compatta beh non è tutto rose e fiori sicuramente tutti i prodotti hanno sempre un lato oscuro e quello dell'ecoflex purtroppo la parte audio essendo dotato di uno speaker da 0,6 pollici capirete molto piccolo l'audio lascia molto desiderare ascoltando diciamo il parlato della nostra assistente va bene ma per quanto riguarda la musica sembra di ascoltare la radio attraverso un citofono questo bisogna essere onesti e dirlo però tutto questo c'è una soluzione come essendo dotato anche di bluetooth potrete collegare il vostro dispositivo ad una cassa bluetooth e se per caso la cassa non ha il bluetooth beh nessun problema come vi dicevo prima prendete un cavo jack 3.5 3.5 li collegate insieme e l'audio passerà attraverso questa cassa e avendo il jack da 3.5 potete collegarlo anche ad un impianto molto più potente che vi darà molte più soddisfazioni quindi abbiamo risolto anche questo problema a proposito di musica poi non so se ve ne siete accorti qui sotto in descrizione vi ho lasciato un link per potervi iscrivere a amazon music unlimited vi danno la possibilità di ascoltare milioni di brani non avrete problemi su tutto questo semplicemente con un click ed è totalmente gratuito per i primi termesi e la cosa importante è che non come tanti altri che magari dopo non potete disattivarlo perché dovete mandare la raccomandata con ricevuta di ritorno piuttosto che vi basterà semplicemente rientrare nel sito di amazon e disattivare questa opzione se siete interessati a questa offerta cliccate qui sotto vi rimanda direttamente al link per poter accedere a questa promozione ma adesso parliamo della porta usb la porta usb non serve solo per poter ricaricare i vostri dispositivi esterni ma ha una valenza anche per accessori che si possono aggiungere direttamente al nostro ecoflex che cosa abbiamo per esempio una lampada di cortesia una luce notturna di cortesia con la quale possiamo dimmerare cambiare colore e quindi diciamo che può essere utile anche per la stanza dei bambini o magari per illuminare un po di più una zona che durante la notte è un po più buia quindi se transitiamo da quella parte ci può aiutare non solo abbiamo anche la possibilità di collegare un accessorio che faccia da ir smart quindi comandare il nostro televisore magari della camera da letto o della cucina piuttosto che altro accessorio veramente importante per questo ecoflex è il rilevatore di movimento con questo ci possiamo divertire anche a creare delle routine ad esempio possiamo impostare che nel momento in cui passiamo e ci rileva accendere le luci magari della sala piuttosto che altre stanze dove abbiamo comunque delle luci smart vedete quante possibilità ci offre questo prodotto vi consigliamo poi di guardare veramente bene sul sito di amazon perché comunque vengono di solito venduti sia singolarmente ma anche con tanti bundle e questo ci dà la possibilità di acquistare un eco con abbinata magari una presa smart una lampadina piuttosto che e poter cominciare già ad usufruire dei vantaggi della domotica casalinga tutta questa meraviglia a parer mio ripeto è un'impressione totalmente personale una mia opinione io veramente lo adoro questo prodotto ma la cosa ancora più bella è che trovate questo prodotto a 14 euro e 99 e anche gli accessori non sono con dei prezzi veramente esagerati ne trovate poi tanti altri c'è anche l'orologio quindi una volta attaccato magari alla presa del comodino vi potete girare e vedere anche l'orario comunque avete veramente un'ampia scelta di accessori da poterci collegare spero ragazzi di avervi spiegato definitivamente l'importanza di capire la potenzialità di questo prodotto naturalmente vi lascio qui sotto il link in descrizione per poterlo acquistare e magari vi metto anche i link di qualche accessorio che secondo me sono validi da abbinarci io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao